E' durata tre giorni la campagna della Polizia Stradaria de Grigento denominata pneumatici. I risultati sono davvero consistenti. Nello scorso fine settimana gli agenti ai ordini del comandante Andrea Giuseppe Morreale hanno controllato sulle strade statali 640 e 115 poco più di 100 veicoli, 21 dei quali sono risultati non in regola con la normativa del codice della strada in materia. Per tutti è scattata una sanzione amministrativa di 85 euro. 1785 euro quindi il totale delle sanzioni amministrative effettuate dagli agenti della Polizia Stradale. Nello specifico i poliziotti hanno potuto notare come diversi automobilisti si sono messi alla guida delle proprie vetture con pneumatici poco sicuri, ovvero con battistrada eccessivamente usurati con lesioni o tagli. La sicurezza del veicolo, ricorda il comandante Morreale, parte proprio dallo stato di salute dei relativi pneumatici, soprattutto durante la stagione invernale. È buono mettersi alla guida con mezzi sicuri, ne va della nostra vita e di quella degli altri.